Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale! Oggi voglio indicarvi alcune frasi per presentarsi e presentare in italiano usando solo il verbo essere. Andiamo a vedere! Iniziamo subito! Io sono Valeria. Io sono di Lamezia Terme. Io sono italiana. Io sono insegnante. Lui è Riccardo. Lui è di Trani. Lui è italiano. Lui è attore. Lei è Raffaella. Lei è di Bologna. Lei è italiana. Lei è cantante. E tu chi sei? Di dove sei? Noi siamo italiani. Noi siamo italiane. E voi chi siete? Di dove siete? Loro sono italiani. Bene, in questa lezione abbiamo imparato i pronomi personali soggetto. Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Abbiamo imparato il verbo essere. Io sono. Tu sei. Lui è. Lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Abbiamo imparato anche l'aggettivo. Io sono italiana. Lui è italiano. Noi siamo italiane. Noi siamo italiani. E infine, con il verbo essere, possiamo indicare anche la professione. Io sono insegnante. Lui è attore. Lei è cantante. E tu? Che mestiere fai? Bene, per questo video è tutto. Aspetto nei commenti le vostre presentazioni. Ditemi chi siete, di dove siete e che mestiere fate. E se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici. Ciao, ci vediamo alla prossima! Mi trovate anche sulle reti sociali come SponVideo. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. E qui trovate altri video che potrebbero interessarvi. Buona visione!